Il Sanfili batte in trasferta il Real Sant'Agata per 2 a 1 e lo raggiunge al settimo posto in classifica a 19 punti. Quindi pure nel primo tempo era stata la squadra di casa ad andare in vantaggio sul calcio di rigore con Esposito mentre la squadra ospite riusciva a pareggiare al 67 con la Valle. Poi un altro calcio di rigore questa volta a favore della squadra in trasferta appunto il Sanfili consentiva a prete di portare in vantaggio la sua squadra e mettersi nelle condizioni di poter stare almeno a centro classifica un po' allontanandosi dalle zone basse della classifica anche perché le altre squadre proprio di fondo classifica hanno perso e quindi le due compaggine Real Sant'Agata e Sanfili pur lontane dalla zona. La zona playoff restano quantomeno in una posizione di tranquillità.